Ciao, benvenuti su Cartisia! Oggi vi propongo la torta di fragole, un dolce semplice, facile e veloce da realizzare, un dolce morbido e profumato, perfetto per la prima colazione e la merenda. Realizziamo subito questo dolce super goloso. Trovate tutti gli ingredienti qui sotto nell'info box. Come prima cosa vi serviranno 4 uova. Dividete i tuorli dagli albumi. Ho così diviso gli albumi dai tuorli. Montate gli albumi a neve. Bene, a questo punto mettiamo questa ciotola da parte e prendiamo la ciotola con i tuorli. Versiamo un pizzico di sale. Adesso versate un bicchiere di zucchero bianco. Lavorate per circa 3 minuti. Dovete ottenere un composto chiaro e sfumoso. Soia a gusto vaniglia. Mezzo bicchiere di soia. Come vedete è mezzo bicchiere. Sette cucchiai di olio di semi di mais o in alternativa potete utilizzare l'olio di semi di soia. Scorza grattugiata di un limone. Io utilizzo un limone biologico. Farina 00 di grano tenero. Sono bicchieri pieni. Due bicchieri più mezzo bicchiere. Quindi due bicchieri e mezzo. Mezza bustina di lievito. Lievito per dolci. Amalgamate bene il tutto. Prima fruste spette. Poi azionate le fruste. Bene. A questo punto riprendete gli albumi. Incorporate gli albumi al vostro impasto. Con movimenti che vanno dal basso verso l'alto. Dopo aver incorporato bene i vostri albumi, prendete una teglia. Ho imburrato e foderato una tortiera di diametro 26. Eseguite questo movimento. Così siamo sicuri che l'impasto si è posizionato bene all'interno della nostra tortiera. Adesso vi serviranno 300 grammi di fragole. Lavatele benissimo sotto l'acqua corrente. Le tagliamo e decoriamo la nostra torta. Taglio la fragola prima a metà e poi nuovamente a metà. Quindi ottengo quattro parti. Decorate così la vostra torta. Quindi vado a posizionare la fragola. Mi raccomando, le fragole non devono essere mature. La nostra torta è pronta per essere infornata. Infornate con un forno, mi raccomando, pre-riscaldato a 170 gradi. Ho infornato la mia torta a 170 gradi per 40 minuti. Consiglio sempre di fare la prova a stecchino. Un dolce semplice, facile e veloce da realizzare. Un dolce morbidissimo. Guardate com'è morbida al taglio. Ogni fetta è morbidissima e profumatissima. Perfetta per la prima colazione o per la merenda. Io spero che questo video vi sia utile. Mi raccomando, iscrivetevi perché ci sono davvero tante video ricette super golose in arrivo. E tante altre ricette troverete sul mio canale. Attivate la campanella così rimarrete aggiornati su tutti i miei video. E se volete, potete seguirmi anche su Facebook oppure su Instagram come Ricette Golose di Cartesia. Io vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo tutorial. Mi raccomando, se provate questa torta davvero buonissima, lasciatemi un commento. Ciao, alla prossima!